Le colture sono fortemente a rischio, è l'allarme che gli agricoltori piacentini lanciano con voce unanime. Siamo stati in un'azienda a San Giorgio, 40 ettari tra grano e pomodoro. Ogni giorno c'è la paura di restare senza acqua per irrigare. A causa della carenza d'acqua che provoca irrigazioni più brevi, il prodotto di punta e il pomodoro sarà più piccolo rispetto agli scorsi anni. La situazione è abbastanza grave anche qui, anche perché ultimamente purtroppo le risorse d'acqua ormai non ce ne sono più e stiamo vivendo difficoltà anche con i pozzi che abbiamo nelle nostre aziende. Le falde si sono abbassate tantissimo, quindi abbiamo le culture mais e pomodoro a rischio e questo diciamo che per la nostra campagna è un problema assai grande. Noi adesso in questa azienda sono all'incirca sui 30-40 ettari, sono coltivati metà a grano e metà pomodoro e diciamo a stento stiamo irrigando, però tutti i giorni abbiamo il timore e la paura di rimanere senza acqua perché le falde si continuano ad abbassare e i nostri posti continuano a diminuire di quantità. Ci hanno parlato di un'annata senza precedenti, lei si ricorda una situazione così grave in passato? No, io non me la ricordo e neanche ascoltando i miei genitori dicono che in un'annata del tipo, del genere, non si ricorda. Danni abbastanza grandi, soprattutto sul prodotto, diciamo il nostro prodotto di punta nell'azienda è il pomodoro anche perché con la carenza di acqua dobbiamo fare delle irrigazioni molto più corte quindi avremo un prodotto molto più scarso, molto più piccolo quindi andremo a consegnare ai nostri stabilimenti una scarsa quantità di prodotto e alla fine a bilancio avremo una mancanza assai grande.